E ciao a tutti amici di YouTube, finalmente Microsoft si è decisa nel dare la possibilità di scegliere quale scada grafica far utilizzare durante l'esecuzione di un determinato programma, gioco e app. Con il rilascio della build 19.56.4 c'è stato un netto miglioramento a queste impostazioni grafiche, ora è presente una pagina nell'app impostazioni interamente dedicata al controllo sulla designazione della GPU. L'utente quindi, in pochi e semplici passaggi, può scegliere quale GPU sfruttare nell'utilizzo di un'app, di un gioco o di un programma desktop a 32 o 64 bit. Analizziamo le funzioni presenti. Prima di tutto, da qui, possiamo pescare il programma, il gioco o l'app desiderata. Per gli elementi del Microsoft Store, verrà aperta una tendina dove poter selezionare quello che ci interessa. Per un classico applicativo Win 32 64, verrà aperto l'Esplora File, così possiamo selezionare l'eseguibile dal percorso di origine. Più in basso c'è la casella per poter ricercare l'elemento presente nella lista sotto. E quest'ultima possiede un filtro per poter velocizzare la ricerca. C'è la voce tutte le app, poi app che ho configurato e poi app aggiunte per me che probabilmente proporrà quelle utilizzate o installate di recente. Facciamo un esempio di configurazione attraverso Android Studio. Verrà aperta una nuova finestra con le seguenti opzioni. Fai decidere a Windows. In questo caso imposta prestazioni alte. Deduco quindi che analizzerà il programma in base alle risorse hardware utilizzate fino ad ora. Si tratta di un IDE, perciò mi pare ovvio che sfrutti ingenti calcoli. Risparmio batteria. Nel mio PC è impostata per questa modalità la scheda grafica integrata, ovvero una Intel che la maggior parte di voi avrà. Nel mio caso specifico una A620. Di norma questa modalità del risparmio batteria viene affidata alla GPU integrata. Perché nella maggior parte dei casi le integrate non possono arrivare a prestazioni importanti. E quindi vengono date a loro delle operazioni standard. Prestazioni elevate. Come da nome la GPU è incaricata nel saper gestire grandi quantità di operazioni. E più in generale saper far lavorare a pieno regime la macchina. Perciò verrà selezionata la GPU dedicata. Nel mio caso una RIDON 530. Questo perché le dedicate sono ottimizzate per eseguire operazioni più ostiche e specifiche rispetto a quelle standard. La mia purtroppo, anche se dedicata, non è una GPU prestante. Perché ho un portatile. Come dico sempre, anche se si compra una configurazione maxata di un portatile, non sarà mai all'altezza di una configurazione maxata di un PC fisso. Perciò, anche se qui si seleziona prestazioni elevate, non pensiate che ci sia un abisso fra quella integrata e quella dedicata. Questo per quanto riguarda i PC portatile. Poi, se avete un fisso, è tutta un'altra storia. Le differenze lì si possono vedere chiaramente. Bene, che consigli dare? Beh, naturalmente fate utilizzare la GPU integrata nelle app e nei programmi basilari. Che non richiedono importanti risorse. Faccio un esempio ai miei esperti. Un player multimediale, un programma di scrittura, un'app per leggere ebook. Invece, se lavorate su programmi come Visual Studio, oppure software di video editing, di progettazione come AutoCAD, qui, se possedete una scheda grafica dedicata, utilizzatela. Che sicuramente va meglio di quella integrata. Fatemi sapere nei commenti se questa pagina l'aspettavate da tanto tempo. E noi ci vediamo ad un prossimo video.